Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe e ti chiamere benvenuti in questo nuovo video di Battlefield 4 Abbiamo iniziato qui una nuova partita, non so su che modalità, credo tipo deathmatch a squadra Abbiamo iniziato benissimo, c'è già uno morto, ultimo womisquadra, abbiamo appena iniziato Ecco, qualcuno è morto qui dietro, tra l'altro le texture non si sono caricate Cioè guardate, è completamente grezzo, purtroppo ragazzi su Xbox 360 e penso anche su Playstation 3 Quindi console di vecchia e generazione, purtroppo ci sono dei problemi che a mio parere andrebbero risolti anche in fretta Ecco, non so da dove mi hanno sparato, guardate quello da là, come si fa, non è possibile Comunque scusate se ogni tanto, anzi se non guardo appunto in camera, ma purtroppo vado piuttosto in difficoltà Allora modifichiamo un attimo la classica, l'altra volta davvero intanto mi avete detto Joseph, volevi utilizzare una determinata arma, ma poi non l'hai più usata Ecco, è questa qua, AK5C, è possibile metterla, credo su ogni classe, mi ci trovo piuttosto bene Non so se mi conviene mettere il silenziatore, vabbè ce lo metto, che mi frega Per cui ve la consiglio, almeno io personalmente mi trovo bene Poi non so se magari voi non siete d'accordo Magari se potete consigliarmi qualche altra arma, che ne so, che volete vedere appunto giocata da me Me lo fate sapere nei commenti Mamma mia, mi son salvato per 29,30, non so come cavolo abbia fatto Ecco, aspetta un attimo, ti ho lasciato anche il kit bro Devo coprirmi perché altrimenti sono messo male Nastro kit medico Aspetta, l'ho visto L'ho visto No, ma non è possibile Gamefighter 11, porca miseriaccia Non è possibile davvero Akog, mirino laser verde Laser verde, ma perché verde? Silenziatore Ragazzi, qui ci vuole concentrazione Le altre squadre ci stanno per fare il culo e questo non va per nulla bene Allora, a questo punto direi di Direi di non fare nulla, sono morto Ucciso, ucciso da Nico Gamefighter 11 Ancora lui ragazzi, indistruttibile Cioè, con colpo alla testa, pensate Per cui, sono messo davvero male Porca miseriaccia, ecco, risponde a qui Mettiamo un po' a terra anche Perché non ti sei preso Il fottuto kit medico Ma Mi sembra di aver visto qualcosa Ho le visioni Ho le fottute visioni No Non mi sparate Vi prego Fate finta di nulla Quello che fa là Mi sembra di aver visto dei nemici nei dintorni Li sento, li sento, arrivano Non arrivano più Porca miseriaccia ragazzi, ma dove stanno? Questo cos'è? No Pensavo fosse un nemico, invece no A questo punto Eccolo qua Mio Benissimo ragazzi Giuseppe ti chiamerà attenzione Quello non credo riuscirò a salvarlo Aspetta No è morto, lo sapevo Sono sicuro che c'è qualcuno qui su Lo sapevo A camperare A camperare Ma ne so due a camperare Anzi ora tre Le spawnano tutti lì a camperare Mamma mia, davvero pessimi ragazzi In frattempo che? A chi spari? Bro, non c'è nessuno là Io qui non ci vedo nessuno Sono tutti lassù Non dirmi che sono tutti lassù Ma A questo punto direi Andiamo a verificare sta cosa Andiamo su Mi sento sparare ragazzi Attenzione Eccolo là Visto Porca miseriaccia Lui che si lancia Lui si lancia Mannaggia Sembra che Da quando ho messo il silenziatore Qualcuno mi sta sparando Da quando ho messo il silenziatore L'arma sia meno Non lo so Meno potente Non ho assolutamente idea Devo farmi il giro per salire Qua no Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Attenzione Ci avviciniamo in mezzo alle frasche Così per destabilizzare il nemico Non vedo Non vedo nemici ora Cura questo E rianima Rianima e lascia anche Aspetta 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 Non è morto ragazzi No Attenzione Sbuca T'ho visto Mamma mia colpa alla testa Ragazzi Attenzione qua Lui cercava di Oh mio dio No 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 Nemico Nemico Eliminato Bene 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 Stiamo procedendo bene Questo che è Punto risponde Nemico Ok a questo punto Glielo distruggiamo Fanculo Equipaggiamento distrutto Bene Devo solo sperare che non cada qui l'intera struttura Il palazzo Questo che fa No No ragazzi Questi camperano sulle scale Questo game fighter 11 Sta camperando Qui in una situazione davvero Insostenibile Adesso basta Eccolo Questo che fa Nemico Eliminato Eliminato Attenzione Nastro carabina Salviamo costui Perché non si salva Mannaggia va Non si riesce a curare ragazzi Sto gioco è buggato Persone che volano Non so se avete notato Ma sono volati Sti tizi Ecco Devo coprirmi Quello che fa Il nemico No Quello era il nemico Ragazzi Non siamo più in testa Non lo siamo mai stati Un altro nemico La eliminato Bene colpo alla testa Bonus tiro alla testa Bene Attenzione Mi sembra di sentire Dei passi ragazzi Sento dei passi Nei dintorni Non li vedo però Porca la miseria Mamma mia no Ucciso ragazzi Ci siamo uccisi A vicenda Cioè improvvisamente Così mi è Comparso Davanti Qualcosa di davvero Mi ha messo paura Comunque Vabbè lasciamo stare Ecco Sponiamo qui Che cosa c'è qui Perdiamo uomini Tutto ne siamo quattro Se ne perdiamo altri No 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 Abbassati abbassati Che è qua Ma non è possibile Quello dall'alto Che camper Alla che sta a fa' Quello No ragazzi Questa la voglio vincere Lo so Sarà difficile per noi Ma la voglio vincere A quanto stiamo 8-7 Sono in positivo Che è qua Sento già degli spari Mamma mia Cos'è E' morto qualcuno qui Nei dintorni Aspetta Mamma mia Non arrivo mai A curarli Ah no Invece si Che cazzo è Ho detto Non è possibile Non ci arriva mai Invece stavolta Ce l'ho fatta Io ho lasciato Anche un kit medico Ma si è curato davvero Per poco tempo Non sembra Non sembra ci siano Altri nemici Qua nei dintorni Non so Non so come sia possibile Cioè O si muovono tutti in branco Come al solito Oppure Non si fanno vedere Questo è ancora amico Ma Non ci sono più nemici Allora abbiamo vinto Non ci sono più nemici Non vedo nessuno là Questo che è? E' caduto improvvisamente Un pezzo di Di una pietra Qualcuno che mi spara Attenzione Mamma mia ragazzi E' eliminato Attenzione Nemico Ah no Questo è amico Stavo sparando ulteriormente Poverino Perché non lancia il kit medico Ecco Nemico là Nemico là Nemico là Non posso ucciderlo No Allora ragazzi Volevo cambiare arma Ma purtroppo Da Da quanto ricordo Avevo Anche dall'altra parte Il caricatore Diciamo nullo Non avevo colpi in canna Per cui davvero Ero messo male là Comunque Dobbiamo riprenderci Ci manca una sola uccisione Per recuperare almeno delta Quello che fa E' un nemico quello Si è un nemico Uccidilo Uccidilo E' eliminato No Ma che cazzo è Patenico No No ragazzi No Vabbè Comunque tranquilli Concentrazione L'ha rianimato Ragazzi L'ha rianimato Porca miseria Vabbè Qua dobbiamo concentrarci Non finisce qui ragazzi Non finisce per nulla qui Attenzione Mi sembra di sentire degli spari Nei dintorni Solo che non vedo nemici qua Mamma mia 2 Porca la miseria Avevo visto il tizio a terra Avevo messo il defibrillatore Per andarlo ad aiutare Invece c'erano due lì Che stavano Appunto Uccidendo quel tizio Gli stavano ancora sparando addosso Poverino Ok ci li siamo ragazzi Che è qua Spari ovunque No Batte la canzoncina ragazzi Quindi No Quello è caduto Aspetta Ci siamo Mio Che azione è qua ragazzi Per Joseph Gamer Mamma mia Che azione è qua Non mi sono fatto manco nulla Che è? No Era un nemico questo Aspettate Un nemico era Sì eccolo qua Nemico Mamma mia Attenzione Bonus tiro alla testa Qualcuno mi sta sparando No Mi ha inseguito ragazzi Con la pistolina della Kik Ogni volta che mi attacca Blueponic Non so chi diavolo sia Vabbè Lasciamo stare Comunque credo che ormai Abbiamo perso Siamo la squadra Che ha fatto più schifo Anzi no È Delta ragazzi La squadra che Che ha fatto più schifo In questa partita Almeno siamo arrivati In terza posizione Almeno non ci confermiamo I soliti idioti qua Che ogni volta Perdiamo Chi sta vincendo Charlie ragazzi Charlie Ha buone occasioni di vincere Eliminato un altro Non tutto è perduto Non tutto è perduto ragazzi Non tutto è perduto Un'altra uccisione Per Joseph Gamer Curiamoci un po' Questo che è amico Curiamoci un altro po' E stiamo attenti Direi di andare Altrimenti perdiamo Altro tempo No La tua squadra ha perso Ovviamente non avevo dubbi Per cui ragazzoli Il video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Un mi piace Un commento Di iscrivervi nel caso In cui non siete già iscritti Ricordate di seguirmi Anche su Facebook Twitter e Instagram Trovate ovviamente I link in descrizione Per cui ragazzoli Io vi saluto E alla prossima Ciao Io vi saluto Ciao Grazie a tutti.